Se stai cercando un lavoro come venditore o come commerciale, è bene che tu conosca il segreto orribile sulla selezione di nuovi agenti che le aziende o le piccole agenzie immobiliari o le catene di franchising non vogliono che il candidato scopra. La verità è che ti considerano carne da cannone, perché hanno un turnover che supera il 90%. Sì, hai capito bene, meno del 10% di chi inizia a fare il venditore in un'azienda riesce a crearsi una carriera stabile. Ed è per questo motivo che ti formano poco. Così non gli costi e se dopo due settimane stai a casa, non ci hanno rimesso nulla. Ed è sempre per questo che ti buttano subito nella mischia, senza una formazione adeguata, a parte quattro sequenze tecniche che magari non hai ancora capito bene, e quindi senza difese. Quante possibilità hai di sopravvivere a un tritacarne come questo? Se ti va bene, una se dici, ma devi essere un campione. E comunque renderesti sempre meno di quello che avresti potuto se inserito in un'azienda sana. Come fai a disinescare questa bomborologeria piazzata sul tuo futuro lavorativo? Facendo domande, in fase di colloquio e pretendendo prove. Quante ore di formazione mi erogherete? Quanti affiancamenti sul campo da parte di un responsabile esperto mi metterete a disposizione? Qual è il mio percorso di formazione e poi di carriera, tempi e obiettivi definiti in maniera numerica, precisa, non generici? Che percentuali di persone riescono a creare una carriera stabile qui da voi? Intendo minimo tre anni. Posso parlare con qualcuno di vostri collaboratori per avere riscontro di quello che stiamo dicendo? Nella mia azienda non c'è nemmeno bisogno che fai queste domande, perché ai candidati in gamba che passano i primi step della selezione, le informazioni le forniamo già noi senza che ce le chiedano. E li portiamo subito a fare un giro dell'azienda per fargli conoscere i componenti della squadra, così che possano rendersi conto di persona. Se stai cercando un lavoro come venditore o come commerciale e vuoi lavorare in un'azienda che rispetta le promesse e che mette la formazione e la carriera dei propri collaboratori al primo posto, allora inviami la tua candidatura. Alla tua carriera e al tuo successo.